Attualmente a Scampia c'è una situazione che inizialmente è stata di emergenza ma che adesso stiamo fronteggiando invece in maniera più ordinaria. Proprio in queste ore ci sono nell'auditorium di Scampia ospitate 12 famiglie, 12 famiglie con una prevalenza di bambini, infatti ci sono 31 bambini e 29 adulti e sono quelle famiglie presenti nell'area dell'incendio che è divampato domenica e che poi ha raggiunto una situazione estrema durante la serata. Queste famiglie sono chiaramente seguite da noi da un punto di vista assistenziale, quindi per quanto riguarda le cure, le cure sanitarie, i pasti, la prima necessità ma anche tutto quello che serve in questo momento a superare questo momento particolarmente difficile. Contemporaneamente stiamo seguendo la situazione sanitaria grazie proprio al distretto sanitario e qui al direttore che è stato sempre presente con noi in questi giorni, anche tutte le persone che vivono attualmente ancora nell'area di Cupaperillo, quindi quelle che sono a ridosso praticamente della scuola Ilaria Alpi. Abbiamo voluto fortemente la presenza di una seconda centralina perché ricordo che è una centralina che monitora costantemente i livelli dell'area, quindi anche tutti i livelli eventualmente dei fattori inquinanti, è già presente nell'area della SIA. Noi abbiamo chiesto, il sindaco ha chiesto in Comitato Ordine e Sicurezza anche la presenza di una seconda centralina nella scuola. La nostra preoccupazione sicuramente è per le comunità ROM che sono state in prima battuta coinvolte, ma riguarda tutta la popolazione limitrofa, quindi è tutto un territorio quello che noi vogliamo salvaguardare e per cui stiamo lavorando alla cremente. Che cosa ci aspetta? Ci aspetta ancora un periodo di emergenza da fronteggiare, vale a dire che non è possibile mettere in campo un'azione definitiva adesso, ma che nei prossimi mesi verrà costruita. Quindi li ospiteremo nella caserma Boscariello per non più di due, tre mesi al massimo, comunque entro la fine dell'anno questa soluzione emergenziale sicuramente si concluderà e verrà organizzata anche lì una gestione, così come stiamo facendo dell'auditorio, con una forte presenza dell'amministrazione. Questo salvaguarda tutti, salvaguarda sicuramente le famiglie che sono presenti lì, ricordo ancora che ci sono tantissimi bambini che tra l'altro vanno a scuola, che adesso stanno facendo delle attività, ma salvaguarda soprattutto tutto il territorio, quindi gli abitanti di Scampia, anche tutti i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola e l'area Alpi, che è un istituto comprensivo, e quindi a salvaguarda delle persone, rispetto in particolare all'accoglienza temporanea nella caserma Boscariello, che avverrà nella parte che afferisce alla zona di Scampia e anzi ci sarà un'apertura su Scampia per consentire anche la frequenza regolare dei bambini a scuola, questa è una soluzione assolutamente temporanea, che non riguarda materialmente e quindi concretamente l'area di Miano e la settima municipalità, ma in particolare proprio l'area che si avvicina maggiormente a Scampia, anzi che si apre su Scampia. È una soluzione temporanea che prevede addirittura l'installazione di tende, quindi è chiaro che le persone che vengono accolte nelle tende possono essere accolte soltanto per un breve periodo di tempo, che sicuramente non supererà l'anno.